Allora Alessandro hai sentito che Deborah e Jaelle sono riuscite a vincere nonostante fossero donne? Ho sentito che queste donne sono state decisive nell'ultima battaglia, molto più coraggiose e valorose anche dei combattenti, degli uomini, però sono sicuro che nelle prossime pagine ci saranno anche combattenti uomini che sapranno dire la loro... Stavano a vedere. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao! Siamo al capitolo VI del Libro dei Giudici con, forse il giudice più importante di quelli visti finora, e cioè Gedeone. Forse è un nome che vi ricorda qualcosa rispetto sicuramente a Eud, a Deborah, a Barak. Gedeone è già un personaggio un po' più conosciuto. Vediamo un po' qual è il contesto della vicenda di Gedeone. Siamo, ripeto, al capitolo VI del Libro dei Giudici. Gli israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore. E il Signore, questa volta, come punizione, nella lettura della Bibbia, li consegnò nelle mani di Madian. Potete sottolineare Madian, il popolo dei Madianiti, per sette anni. Notate che il Signore consegna Israele nelle mani dei popoli nemici non per poche settimane e pochi mesi, ma per diciotto anni, per venti anni, per sette anni, cioè per una misura considerevole di tempo. È davvero una situazione dura per Israele. La mano di Madian si fece pesante contro Israele. Per la paura dei Madianiti, gli israeliti adattarono per sé gli antri dei monti, le caverne e le cime scoscese. Ma scusa, perché anche le cime scoscese? Perché praticamente nei posti normali Israele non poteva più vivere, perché c'erano le scorrerie dei nemici. Per cui Israele deve limitarsi a vivere nelle caverne, nei posti più disgraziati e dove è più difficile vivere, coltivare, trovare l'acqua, eccetera. Quindi davvero una esistenza tremenda. Pensate poi, come dice il testo dopo, ogni volta che Israele aveva seminato, i Madianiti venivano contro di lui, si accampavano e distruggevano tutti i prodotti della terra. E non lasciavano in Israele mezzi di sussistenza, né pecore, né buoi, né asini. Quel poco che Israele aveva veniva razziato dai nemici, proprio perché Israele non potesse sopravvivere, perché dovevano, agli occhi dei nemici, morire di fame, distenti ed estinguersi. Ora l'angelo del Signore venne a sedere sotto il terebinto di Ofra, che apparteneva a Ioas. Gedeone, figlio di Ioas, batteva il grano nel frantoio per sottrarlo ai Madianiti. Sembra che questo Gedeone, di nascosto, stesse mettendo via del grano per sottrarlo, prima che arrivassero i nemici, e nasconderlo e tenerselo in casa, praticamente. L'angelo del Signore gli apparve e gli disse, il Signore è con te, uomo forte e valoroso. Sottolineate per favore questo versetto 12, il Signore è con te, uomo forte e valoroso. È strano a ben pensare un saluto dell'angelo del genere. Lui sta parlando praticamente con un contadino, con il contadino che appartiene a un popolo che rischia di estinguersi, che rischia di morire di fame, di stenti, di razzie, di uccisioni. Eppure chiama Gedeone, uomo forte e valoroso. Perché gli ho detto di sottolineare? Perché quello che sembra tante volte agli uomini non è detto che sia ciò che vuole Dio. Cioè, gli uomini vedono una persona disgraziata che sta cercando di salvare un po' di cibo per la sua famiglia. Dio, in questa persona, vede un uomo forte e valoroso. Cosa voglio dire con questo? Che dobbiamo avere fiducia di vedere noi stessi e gli altri, non con i nostri occhi, con le nostre categorie, che spesso sono negative, limitanti, giudizi davvero brutti, ma con gli occhi di Dio. E allora quella che è una persona, ai nostri occhi, banalissima, mediocre, agli occhi di Dio, diventa il liberatore. Uomo forte e valoroso. Del resto, però, voi che magari avete anche a che fare, non so, come animatori con i bambini, sapete che se voi date a un bambino grande fiducia, quel bambino si comporterà bene. Quel bambino dirà, davvero io sono una persona importante, sono una persona utile, sento di essere apprezzato, e quindi darà il meglio di sé. Se voi trattate una persona davvero come se fosse una persona mediocre, quella persona magari si convincerà di non avere niente da dare e farà peggio ancora di quello che magari poteva fare. Per cui direi che è davvero importante riconoscere che nella chiamata di Dio, ed è per questo motivo che mi sono affermato così tanto, nella chiamata di Dio c'è già un destino, un piano, un sogno, un progetto che è di cose grandi. Uomo forte e valoroso. Certo, rispetto a queste parole, Gedeone risponde e dice, Perdonami, oh Signore, se il Signore è con noi, perché ci è capitato tutto questo? Domanda Bruciapelo. Ma tu mi chiami uomo forte e valoroso, ma direi che il presente dove vivo io non è così. Dove sono tutti i suoi prodigi che i nostri padri ci hanno narrato, dicendo il Signore non ci ha fatto forse salire dall'Egitto, ma ora il Signore ci ha abbandonato e ci ha consegnato nelle mani di Madian. Notate la bellezza, secondo me, di questo Gedeone, che viene salutato come uomo forte e valoroso, ma che poi si lamenta con Dio e non perdona niente a Dio. Gedeone gli dice, ma scusa, mi chiami così e poi il nostro popolo soffre e io faccio questa vitaccia schifosa, eccetera. Come è possibile, insomma, che io presti fede a te? Tu sì, sei quello che ha fatto grandi cose salvando Israele in Egitto, ma adesso la mia sensazione è che il Signore ci abbia abbandonato, ci abbia consegnato nelle mani dei nemici. Come la mettiamo? Grande obiezione lanciata da Gedeone. Allora il Signore risponde, va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non ti mando forse io? E ancora Gedeone fa un'obiezione. Scusa mio Signore, come potrò salvare Israele? La mia famiglia è la più povera di Manasse, io sono il più piccolo nella casa di mio padre. Un'obiezione che tante volte facciamo anche noi, quando ci viene lasciato qualche incarico, quando qualcuno ha pensato per noi a un compito particolare, noi diciamo, ma come posso fare io una cosa del genere? Sono giovane, non so parlare, mi vergogno, non ho la forza, non ho il tempo. Noi siamo i primi che avanzano obiezioni su obiezioni, di fronte a una richiesta. E così è anche, e tante volte, nella Bibbia per le persone chiamate da Dio. Come potrei salvare questo popolo? Io sono una persona povera, di una famiglia povera, di un popolo povero. Cosa posso fare? Eppure, il Signore ritorna a dire, io sarò con te e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo solo. Cioè, questi Madianiti così forti, così potenti, guarda che in realtà, se ti mando io contro di loro, li sconfiggerai senza problemi. Quindi Dio insiste in questa sua missione, nonostante una certa ritrosia di Gedeone che avanza obiezioni. A questo punto Gedeone insiste e dice, guarda, se ho trovato grazie ai tuoi occhi, dammi un segno che proprio tu mi parli. Ma in che senso dammi un segno? Sì, hai fatto bene Alessandro a fermarmi, perché, non so se avete notato in questo brano, abbiamo un classico schema, che è lo schema dei racconti di chiamata, dei racconti di vocazione. Nella Bibbia tante volte Dio chiama un uomo, una donna, a compiere una missione particolare, a vivere una vita particolare, e la prima risposta rispetto alla chiamata di Dio è sempre un'obiezione. Ma hai chiamato proprio me? Ma mi conosci? Io sono una persona debole, peccatrice, misera, il mio popolo è sfortunato, eccetera. Sei sicuro di avermi chiamato? Sì, dice Dio, ti ho chiamato, ma spesso di fronte a una richiesta del genere da parte di Dio, la persona chiamata dice, beh, guarda, dammi un segno. Succeda qualcosa intorno a me di straordinario, per cui io possa capire che davvero mi stai parlando tu, Dio, e non sto ascoltando una voce che magari nasce, non lo so da dove, dal male, o una voce che nasce solo nella mia vita, ma non viene da Dio, ecco. E in questo caso il segno, ma saltiamo la lettura, è il fatto che quel cibo che Gedeone sta per offrire all'angelo del Signore, che gli è andato incontro, praticamente brucia senza che Gedeone abbia acceso il fuoco. Insomma, un segno particolare, potremmo dire noi quasi magico. Questo è un segno che Gedeone ha a che fare non con una persona qualsiasi, ma con l'angelo di Dio. Insomma, nonostante le obiezioni di Gedeone, Gedeone capisce che è Dio che si rivolge a lui come uomo forte e valoroso, nonostante magari Gedeone non creda di essere né forte né valoroso, eppure questa è la missione che gli viene data. In quella stessa notte, il Signore disse a Gedeone, Ma perché Gedeone deve distruggere anche l'altà di suo padre? Non basta che ne faccia un altro per lui? Sì, la tua domanda è, direi, importante, nel senso che, se facciamo il punto della situazione, Gedeone è stato chiamato da Dio per una missione. Dio ha superato le obiezioni di Gedeone e adesso già gli dice cosa deve fare. Prima di tutto, Gedeone deve staccare con la sua vita precedente. La casa di suo padre, la tribù di Gedeone, adorava la divinità Baal. Infatti c'era un altare dedicato a questa divinità e poi c'era anche un palo sacro che era il segno di adorazione di quelle altre divinità. Dio dice, se tu vuoi liberare il mio popolo, in questa missione bisogna fare piazza pulita del passato e invece seguire solo me, che sono il Dio vero. Quindi Gedeone dovrà distruggere praticamente l'altare che era di suo padre e costruire un altare nuovo. Mi sembra importante notare anche che la novità di vita alla quale Dio ti chiama può prevedere una rottura netta con la casa di tuo padre, in senso ampio. In questo caso rispetta i culti della casa del padre, ma tante volte seguire Dio vuol dire anche prendere certe distanze dalla nostra famiglia, magari da certi stili di vita e da certe abitudini, perché di fronte alla chiamata di Dio tutto il resto passa in secondo piano. Allora Gedeone cosa fa? Gedeone davvero prende degli uomini, i suoi servitori, e distrugge questo altare di Baal. Notate però, dice la Bibbia, temeva di farlo di giorno per paura dei suoi parenti e della gente della città e lo fece di notte. Quindi se da un lato Gedeone lo apprezziamo perché esegue quello che Dio gli ha ordinato, prendiamo atto comunque che fa fatica a farlo alla luce del giorno, lo fa di nascosto di notte, un po' si vergogna, un po' ha timore. Mi viene in mente la figura di Nicodemo che nel Vangelo parla con Gesù, ma non di giorno, quando tutti potevano vedere che lui andava a parlare con Gesù, ma di notte, di nascosto, perché si vergognava a farsi vedere con Gesù. Il mattino dopo, praticamente, la gente vede che è stato distrutto questo altare, praticamente vogliono mettere a morte Gedeone, perché ha distrutto il loro altare, ma il padre, il padre di Gedeone, dà prova di grande maturità e dice, e siamo al versetto 31, Volete difendere voi la causa di questa divinità Baal e venirli in aiuto? Dice il padre di Gedeone, quello a cui hanno distrutto l'altare. Dice, guardate, se ha distrutto l'altare vuol dire che non ha deciso per conto suo, ma viene da Dio questo discorso. E anzi, è la volta buona di vedere se questo Baal che si è trovato all'altare distrutto si arrabbia oppure no, per capire se questo Baal, questa divinità, esiste oppure no. Ecco. E allora il padre che poteva davvero arrabbiarsi più di tutti perché gli avevano distrutto l'altare in realtà la prende bene e dice, guardate, vediamo come reagisce questa divinità a cui hanno disfatto l'altare. Non succede niente e quindi in qualche modo si converte tutto il casato di Gedeone. Ultimo aspetto del nostro brano è Gedeone che però non è ancora del tutto convinto e quindi chiede a Dio un altro segno. il segno del vello. Ecco, io metterò un vello di lana sull'aia. Se ci sarà rugiada soltanto sul vello e tutto il terreno resterà asciutto, io saprò che tu salverai Israele per la mia mano, come hai detto. Scusa, ma perché il vello? Praticamente è un segno particolare, cioè il vello è la pelliccia. Dice Gedeone, io metterò della pelliccia qua fuori in mezzo alla terra, al terreno. Se al mattino tutto sarà secco ma la pelliccia sarà bagnata, allora è un segno particolare. Succede così. Gedeone però dice non basta, facciamo il contrario, mettiamo ancora questa pelliccia per terra. Se al mattino tutto intorno sarà bagnato ma il vello sarà asciutto, sarà qualcosa di particolare, di strano, allora io avrò la certezza che anche qui tu sei Dio e non sei chissà che voce che gira nella mia testa. Quindi vedete come di fronte alla chiamata di Dio è facile perché si trova sempre qualche obiezione, qualche difficoltà, qualche richiesta di un segno, ma Dio viene sempre incontro e alla fine la persona che segue Dio anche con gesti molto forti come distruggere un altare che c'era nella propria casa insomma però guarda alle esigenze di Dio e mette il resto in secondo piano. di Dio Grazie per la visione!